La comunità di Pescara si è stretta attorno al suo santo patrono in una delle giornate più sentite dell'anno. Le celebrazioni di San Cetteo hanno richiamato centinaia di cittadini per la solenne processione partita dalla piazza antistante la cattedrale con in testa i giovani scout e l'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Da parte del prelato in questa occasione così sentita, arrivata in un momento in cui la guerra scoppiata in maniera sanguinosa e Medio Oriente sta causando altre vittime, è arrivato un messaggio chiaro, non un semplice appello, ma un invito perentorio a fare qualcosa. Stiamo assistendo in questi giorni, come del resto abbiamo assistito nei mesi passati, a uno strano balletto che si schiera a favore dell'uno, che si schiera a favore dell'altro, senza capire che odio chiama odio, guerra chiama guerra e solo la pace, una via possibile di pace può risolvere il problema. E su questo credo che le grandi potenze e in particolare l'Europa dovrebbe dire una parola di pace. Appello rivolto all'Europa, sì, ma anche alla classe politica locale impegnata ora in una campagna elettorale che si preannuncia dai toni aspri. Invece i poteri locali, i politici nostrani, cosa possono fare? Siamo già in campagna elettorale, eccellenza. Ma possono capire che c'è una dimensione di pace da cercare. D'altra parte credo che la gente, perlomeno il polso della gente che noi sentiamo sempre più forte, è un polso molto scoraggiato. Sono persone che sono molto in difficoltà da un punto di vista economico. La guerra sta portando miseria. Al termine della processione, fedeli e autorità hanno gremito la cattedrale per seguire la cerimonia cui ha preso parte anche il vescovo venezuelano Edgar Pegna Parra. E anche da parte di Don Francesco Santuccione, così come da Rita Circeo, presidente della sottosezione Unitalsi di Pescara, un messaggio di pace improntato proprio sulla figura di San Cetteo. Noi come cristiani vogliamo essere beati pacificatori, portare la pace. San Cetteo l'ha fatto alla grande e noi diciamo aiutaci tu a essere operatori di pace, dentro casa e fuori casa. Essendo un'associazione ecclesiale vogliamo partecipare alle iniziative della diocesi e chiaramente della nostra città e quindi spesso e volentieri prendiamo parte alla processione, alle funzioni. Grazie a tutti.